Mezzo milione di cittadini hanno scaricato la app Immuni, la famosa app di tracciamento dei contatti che dovrà servire a contenere la diffusione del coronavirus. Nessuna conferenza stampa è stata convocata dal governo, nessun comunicato che ha spiegato chiaramente gli obiettivi e la sicurezza, ma è già polemica tra la maggioranza e l'opposizione. L'app sostiene la maggioranza, non viola la privacy di chi la usa, non raccoglie dati personali, non consente schedature di massa e tantomeno crea banche dati da passare di nascosto alla Cina. Queste affermazioni contro Immuni sono infondate, eppure è di questo che si parla e si parla tanto. Ed anche sui social è in atto uno scontro fra maggioranza che non ha trovato il tempo di comunicare come si deve utilizzare questo strumento e l'opposizione che usa argomenti privi di fondamento per mettere in difficoltà il governo. Migliaia di persone stanno scaricando la app che sta diventando parte attiva di una rete di cittadini che intende proteggere se stessi e soprattutto proteggere gli altri. Una partita complicata quella del digitali, i cui esiti non sono perfettamente chiari. L'Italia è il terzo paese europeo ad avere una app già pronta. Prima di noi sono arrivati la Lettonia e la Svizzera, mentre Germania e Francia devono ancora iniziare. Ma la app Immuni non batterà il virus, lo dicono anche gli ingegneri informatici. Servono tamponi tempestivi, la quarantena per i positivi e una diffusione ancora più ampia. La semplice notifica di un'esposizione rischia di mettere in quarantena interi esercizi commerciali come bar e ristoranti o palestre in caso che un cliente scopra di essere positivo. È un aspetto che va chiarito in fretta per il successo dell'intera operazione. La campagna di comunicazione sta per partire, ma intanto i primi dati sono incoraggianti. Oggi potremmo tagliare il traguardo del milione di utenti, dicono il comitato scientifico. Un dato clamoroso per le ragioni che abbiamo visto, ma che non deve illudere nessuno. Occorre arrivare a 10 o addirittura 20 milioni per avere l'efficacia sperata. Bisogna convincere più gente possibile.